Un evento per celebrare in qualche modo la figura di mio padre, mio padre che è scomparso praticamente 25 anni fa e questo evento cerca proprio di ricordare una figura grazie alla quale poi noi abbiamo incominciato tutto il percorso di sostegno alla ricerca, continuo tra l'altro in tutti questi anni. Continuate a sostenere la ricerca, continuate a sostenere la scienza perché noi crediamo nella scienza, affrontiamo queste battaglie insieme. Per noi la base di Cata è un esempio virtuoso, una regione relativamente piccola ma con una raccolta delle donazioni pro capite molto elevate, tra le più virtuose in Italia. La ricerca scientifica è un po' come una corsa di testimoni, ciascuno di noi fa un pezzo, passa il testimone e qualcun altro continua la corsa. L'anno scorso AIRC ha investito 143 milioni di ricerca e hanno beneficiato 6.000 ricercatori. Abbiamo dato 90 borse di studio e finanziato 700 programmi di ricerca e 15 speciali. Assolutamente orgogliosa di essere qui e di rappresentare i giovani ricercatori del Sud. Per fortuna per noi c'è AIRC, AIRC ha la differenza in questo, trattiene una parte di noi ed è fondamentale perché in Italia si fa buona scienza, al Sud si fa buona scienza ed è importante che questo possa emergere sempre di più e essere chiaro a tutti. E grazie a tutti i serviti alla vita, vi benedico! Ciao!